Al palazzo mio c'è il portiere che da 30 anni tutti i giorni mi chiede scusi dove va? Cerca qualcuno? Non metta volantini, non metta volantini No, lo dico per trasparenza, io sono un umile Ho capito Io di politica non ci capisco un cazzo Non ci ho mai capito niente Tenga presente che il 30% degli italiani non sa manco chi cazzo io sia Allora, quando anche ci avessi dei contenuti Perché oh, sia chiaro, dei contenuti non ce ne stanno Se lei ha un contenuto me lo dica Ma io devo darglielo E che devo darglielo io?